Uno sguardo guarito e salvato, che sappia diffondere luce in mezzo alla gente perché ricorda lo splendore che lo ha illuminato. È questo l'augurio che Papa Francesco ha fatto ai padri sinodali, ringraziati durante l'Omelia della Messa di conclusione del Sinodo sulla famiglia, concelebrata con loro in San Pietro domenica 25 ottobre, per le tre settimane di lavoro condivise. Oggi è tempo di misericordia, ha affermato il Papa, che ha invitato ad assumere il comportamento di Gesù, descritto nel Vangelo Domenicale, che ridona la vista al cieco Bartimeo, il quale sfida i rimproveri della folla e l'iniziale indifferenza degli apostoli, pur di essere ascoltato dal Maestro. Francesco ha messo in guardia da due tentazioni, quella di essere abitudinari della grazia tipica di chi, pur lavorando nella Chiesa, è sordo ai bisogni di chi soffre, e quella di avere una fede da tabella, per la quale tutto deve avvenire come previsto, mentre ogni inconveniente disturba. A noi spetta, ha detto, imitare il cuore di Gesù. A questo sono chiamati i discepoli di Gesù, anche oggi, specialmente oggi, a porre l'uomo a contatto con la misericordia compassionevole che salva. Quando il grito dell'umanità diventa, come in Bartimeo, anche ora più forte, non c'è altra risposta che fare nostre le parole di Gesù, e soprattutto imitare il suo cuore. Le situazioni di miseria e di conflitto sono per Dio occasioni di misericordia. Oggi è tempo di misericordia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao.